La vittoria è come una droga, crea dipendenza. Il fallimento invece è naturale, fa parte della nostra vita. Dopo piove sul bagnato e basta poco, l'attore e regista toscano Andrea Muzzi presenta il suo nuovo film All'alba perderò, commedia amare al tempo stesso esilarante sul tema della sconfitta, un argomento che è quasi un tabù nei dibattiti pubblici e nella vita di tutti i giorni dove vige sempre e comunque la retorica del vincente. Ma parafrasando l'area pucciniana Muzzi pone allo spettatore un interrogativo. Siamo sicuri che non si possa imparare anche dalle nostre sconfitte? La storia di un regista che non riesce a realizzare il suo film e cade in depressione, addirittura sogna nella notte dell'Oscar di essere premiato nella categoria fallito dell'anno, gli danno questa lampadina nera fumante, risvegliandosi a un'idea geniale, quelle idee geniali che cambiano la vita. Raccontare chi ha fallito più di lui, i fuoriclasse della sconfitta, i campioni della perdita, persone che hanno perso ma non l'hanno fatto in modo normale, hanno fatto in modo unico perché anche per perdere ci vuol talento, cioè ne è da tutti. Quando perdi cerca di capire come mai sei caduto in buca, perché quando perdi di solito ti si aprono altre porte, tutti quei fuoriclasse della sconfitta che racconto io sono gente che è rinata in mille altre situazioni e alcuni sono diventati anche persone di successo. Il film presentato in anteprima al cinema La Compagnia di Firenze il 19 novembre sera in collaborazione con Toscana Film Commission vede nel cast Miriam Bardini, Daniele Marmi, Michele Crestacci e Alessandro Riccio e con le partecipazioni straordinarie di Paolo Calabresi, Angela Finocchiaro, Yuri Chechi e Pupo. All'alba perderò, un film che ho girato con grande gioia, mi sono molto divertito, Andrea Muzzi è un grande regista, un grande creativo e adesso è anche un grande amico. All'alba perderò, trasmette un messaggio positivo anche ai giovani, grazie alla testimonianza e all'esempio concreto di noti sportivi, come quella del campione del calcio fiorentino e italiano Giovanni Galli. Ma quando mi ha chiamato Andrea mi ha detto hai qualche aneddoto della tua vita che può rientrare in questo? E ho detto come no, ci mancherebbe. Ho vissuto un'esperienza che era quella del mondiale del 1986 dove ero il portiere titolare, vestivo la maglia della nazionale, numero uno, rappresentavo la mia nazione e quel mondiale non andò bene. Per cui mi sono sentito crollare il mondo addosso, dovevo in qualche modo cercare di capire che cosa fosse successo e all'interno di questo film Andrea mi ha chiesto racconta questa tua esperienza, l'ho raccontata e spero che possa essere utile. Come diceva prima Andrea, dalle sconfitte si deve uscire più forti, cioè le sconfitte ti devono aiutare a capire quali sono stati i tuoi errori da non commettere nuovamente e iniziare un nuovo percorso. Il film che arriva nelle sale in questi giorni in proiezione evento alla presenza del regista e attore toscano ricorda agli spettatori che ogni fallimento può essere l'inizio di una ripartenza e di un nuovo successo. All'alba perderò un progetto vincente. Ciao!